Forza Italia torna ad attaccare gli annunci della maggioranza sul fronte della manovra. Flat tax e reddito di cittadinanza sono inconciliabili. Simonetta Guidotti. Le misure annunciate dal Governo per la manovra possono mettere a rischio la tenuta dei conti pubblici. È l'allarme rilanciato dalla festa dell'Udc a Fiuggi. Tra gli ospiti è anche lo Stato Maggiore di Forza Italia con il Vicepresidente Tajani per il quale il Governo giallo-verde non sta portando buoni risultati al Paese. Sì, ad una vera flat tax con un'aliquota unica attacca Sestino Giacomoni, no a quella che definisce la tria tax a più aliquote, fatta solo per prendere in giro gli italiani. Proposte, sottolinea Forza Italia, comunque impossibili da realizzare, come il reddito di cittadinanza senza sforare i conti. Non si può fare insieme flat tax, reddito di cittadinanza, abolizione della Fornero perché saltano i conti pubblici dopo tre mesi. Lo Stato non sarà più in grado di pagare i suoi servitori, carabinieri, poliziotti, finanzieri, maestri, i bidelli. Anche per il leader Udici Cesa che auspica in futuro un nuovo centrodestra al Governo, il reddito di cittadinanza è una misura sbagliata. Ci auguriamo, avendo fatto il lavoro nel centrodestra prima delle elezioni, anche insieme a Salvini, sul programma, che ci sia una forte azione di riduzione delle tasse, si agisca sul cuneo fiscale, si dia una mano alle imprese per far ripartire l'economia, per far ripartire l'occupazione del nostro paese.